buongiorno amici questo è il resto del carlino tg edizione del 18 febbraio cominciamo con una notizia di cronaca nera che proviene da modena dove sono state sequestrate una tonnellata e mezzo di medicinali ma la vicenda è davvero singolare perché gran parte di questi medicinali erano degli schiarenti per la pelle venivano utilizzati da immigrati che volevano appunto rendere la superficie della loro pelle più chiara per integrarsi meglio vediamo il servizio di alberto maio bottiglie di ciropo vitaminico lassativi ma anche creme schiarenti per la pelle provenienti dal centro africa e utilizzate soprattutto dai migrati in alcuni casi per integrarsi meglio prodotti ritenuti altamente nocivi per la salute perché contengono una sostanza del tipo idrochinone composto irritante usato in fotografia come rivelatore delle immagini in dermatologia come depigmentate del melasma potenzialmente tossico se usato a lungo 11 pallet pari a una tonnellata e mezzo di questi prodotti di contrabbando sono stati sequestrati dagli agenti della squadra mobile di modena assieme al settore antifrode dell'ufficio delle dogane nell'ambito dell'indagine è stata denunciata la procura una ganese residente a parma ma domiciliata in città i prodotti sono stati rinvenuti a bordo di un camion di uno spedizioniere strano alla vicenda che stava per scaricare la merce in centro a modena la polizia sottolinea in particolare che varie donne immigrate per cercare di integrarsi maggiormente fanno uso di prodotti schiarenti per la pelle che vengono venduti sotto banco con prezzi fra i 5 e i 15 euro ma non sono testati e possono quindi rivelarsi potenzialmente pericolosi. Passiamo adesso al delicato capitolo della violenza sulle donne la notizia viene da Ferrara dove tre giovani bresciani sono finite in manette per avere violentato una ragazza ferrarese l'estate scorsa al Lido delle Nazioni vediamo il servizio di Alessio Bertini si aggiorna la triste conta delle violenze sessuali alle donne la vicenda questa volta risale alla primavera scorsa quando un gruppo di 5 giovani originari del bresciano decise di passare una vacanza per il ponte del 25 aprile nella casa di Lido delle Nazioni a Ferrara di proprietà dei genitori di uno di loro il gruppo era composto da 4 ragazzi 22 anni e dalla fidanzata minorenne di uno di loro la prima notte in tre abusarono della ragazza mentre il fidanzato non si accorse di nulla il giorno dopo la violenza si sarebbe ripetuta 22 degli Aguzzini il dramma della giovane durò diversi mesi finché trovò il coraggio a luglio di denunciare tutte i carabinieri del suo paese nel bresciano da allora la minorenna un sostegno psicologico per tentare di superare il trauma mentre le indagini sono state trasferite per competenza Ferrara la conclusione è arrivata venerdì scorso quando sono state eseguite tra ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei tre presunti aggressori nell'interrogatorio davanti al gpipm i ragazzi sarebbero caduti più volte in contraddizione per loro è quindi stato confermato il carcere un'altra notizia che viene da bologna sempre in tema di violenza e questa volta la violenza è contro i bambini un giovane di bologna è stato tratto in arresto per atti sessuali e corruzione di minore in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di venezia reati aggravati dal fatto che la vittima ha meno di 10 anni il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile dagli agenti del commissariato di marghera in collaborazione con i colleghi di bologna nel mese di dicembre un cittadino straniero regolarmente residente nel veneziano e padre di un bambino di 9 anni aveva denunciato a marghera di avere sorpreso l'indagato di 28 anni da alcuni mesi ospite nella sua casa nell'atto di compiere atti sessuali con il figlio secondo quanto emerso dalle successive indagini coordinate dalla procura della repubblica di venezia l'uomo nei mesi precedenti avrebbe più volte abusato del bambino cambiamo completamente argomento e ci spostiamo alla politica e alla corsa la poltrona di sindaco di bologna elezioni amministrative che si terranno il 6 e 7 giugno prossimo questa volta però parliamo di satira perché due vignettisti zap e ida che sono delusi dalla sinistra che ha governato negli ultimi cinque anni bologna hanno deciso di prestare il loro sostegno alla campagna elettorale di giorgio guazzalocca ovviamente un sostegno ironico alla loro maniera vediamo il servizio di alessio bertini forse è meglio scherzarci su bologna ha bisogno di tornare allegra di far emergere lo spirito ridanciano che storicamente la caratterizza questo devono aver pensato zappe ida vignettisti da sempre schierati a sinistra che alle prossime elezioni hanno invece deciso di sostenere la lista civica di giorgio guazzalocca e lo fanno nel loro stile con un'iniziativa che si propone di dar voce ai cittadini tramite uno strumento apparentemente insolito per la politica l'umorismo sono uno dei non so se numerosi o pochi bolognesi io penso più numerosi che sono rimasti delusi da cofferati a livello cittadino penso che non debba essere un segretario di partito a decidere del futuro della città ma debba essere il cittadino e attraverso una lista civica e l'unica lista civica proponibile secondo me è la tua bologna i bolognesi sono chiamati a dire la loro sui temi caldi della vita cittadina combattute ironiche o cattive comunque divertenti da febbraio a maggio verranno distribuite nei locali della città e sui quotidiani le vignette in bianco di da peida ai cittadini il compito di dar sfogo alla fantasia e completarle tra quelle consegnate al quartier generale di vede i toschi verranno selezionate le migliori e al termine della campagna elettorale sarà scelta la vincitrice di avversari di guazzalocca sono avvisati nemmeno loro saranno a riparo del bono lo rappresenterei in cattedra bravissimo attorniato da bambini ma non da cittadini cazzola lo metterei diciamo fianco a fianco a berlusconi perché secondo me è un uomo alla sua bassezza bene amici eccoci adesso allo sport parliamo del bologna calcio e anche di giacomo bulgarelli il ricordo di giacomo non sfuma in questi giorni tanto è vero che anche ieri si è discusso della sua famosa maglia numero 8 la società ha deciso di non ritirarla come era stato auspicato da qualcuno servirà da stimolo per tanti giovani che vorranno vestire ancora quella maglia e ripetere le imprese leggendarie di giacomo bulgarelli bulgarelli verrà ricordato anche dal tifo dell'andrea costa che sta preparando un minuto di raccoglimento molto forte e molto sentito ci saranno degli striscioni dedicati a giacomo mentre sul maxi schermo dello stadio dall'ara scorreranno le immagini della carriera di questo grande capitano del bologna poi c'è da raccontare ancora la partita ibraimovic sarà il grande rivale ma ci sarà anche adriano vicino a lui e miailovic che viene dall'inter che conosce bene tutti i segreti della società nerazzura avrà sicuramente la possibilità di preparare una partita all'altezza intanto mudingai fa sapere che non è impossibile battere ibraimovic e l'inter questo è il clima in cui si prepara la grande sfida ma la seguiremo ancora giorno per giorno finisce qui amici il resto del carlino tg del 18 febbraio arrivederci a domani